Sono oltre 31.000 gli aretini immunizzati, mentre ben 75.000 coloro che hanno ricevuto la prima dose. Prosegue così a ritmo spedito anche ad Arezzo la campagna vaccinale. Dal bollettino fornito dall'azienda sanitaria emerge che in tre giorni sono stati vaccinati 3.034 aretini con la prima dose, mentre in 3.708 hanno fatto anche il richiamo. Dall'inizio della campagna sono 74.932 le persone residenti in provincia che hanno ricevuto almeno una dose del siero e 31.366 quelli che hanno completato il ciclo. L'attenzione si sta concentrando adesso molto sui settantenni e sulla categoria degli estremamente fragili. Per quanto riguarda i primi, siamo passati da 16.289 somministrazioni di martedì alle 17.798 di oggi, mentre per gli estremamente fragili la prima dose è stata somministrata a 9.898 persone ed il richiamo a 2.114. In merito agli over 80, poi, la prima dose di vaccino è stata somministrata a 26.569 soggetti, di questi 18.613 si sono completamente immunizzati. Infine, in relazione ai prodotti, vediamo che Pfizer è stato utilizzato 44.661 volte come prima dose e 28.086 per il richiamo. Della AstraZeneca sono state somministrate 24.051 dosi, mentre del Moderna 8.525 comprensive di 3.280 richiami. Di Johnson & Johnson, che prevede una sola somministrazione, siamo a 975 dosi inoculate la scorsa domenica.